Secondo in classifica, con la difesa meno perforata del girone H e con il minor numero di sconfitte del raggruppamento, due insieme al Casarano, il Nardò vicecapolista, la squadra che ha collezionato il maggior numero di punti del 2023, si presenta così all'appello della ventiduesima giornata. Arriva il Lavello, con fisco d'inizio previsto alle ore 15, a Giovanni Paolo II arriva un avversario non di prima fascia che però ha dimostrato di essere vivo, vincendo due delle ultime tre gare. Nessuna possibilità di rilassarsi, insomma, per i neretini, distanti al momento tra lunghezze della capolista cavese, che a sua volta ha un abbinamento tutt'altro che agevole, in trasferta contro un Matera decisamente in salute, un solo KO nelle ultime 14 esibizioni per i Lucani di Salvatore Ciullo, ha perso una sola volta nelle ultime 15 addirittura il team Altamura, che però deve tornare a vincere subito dopo la sconfitta interna con il Bitonto e il Beffardo pareggio di Gravina nel derby della Murgia, biancorossi scivolati a meno 6 dalla testa della gradatoria, che ospitano Aldangelo, sempre partire dagli ore 15 il Francavilla in Sinni, in contemporanea due derby di Puglia molto interessanti, c'è Brindisi, Martina, Fanuzzi, padroni di casa in piena corsa anche per la vittoria finale di questo campionato, ospiti che invece hanno nel mirino punti pesanti in chiave salvezza, Alvito Curlo, c'è Fasano, Molfetta, Biancazzurri che non possono perdere ulteriore terreno dalla zona playoff, biancorossi che devono invece provare per l'ennesima volta a dare una scossa alla propria deludente stagione, come certifica l'attuale penultimo posto. Novità sulla palchina del Gravina che sfida a Cardito Lafragolese, debutto al timone per Raimondo Catalano che ha preso il posto in settimana delle esonerate Antonio Summae Felice Ragone Casarano, appena fuori dalla zona playoff, impegnato a San Francesco sul campo di una nocerina che ha fatto zero punti nelle ultime tre. A completare il programma della quinta di ritorno, poi il derby tutto campano, fra Putiolana e Gladiator, scontro diretto in chiave salvezza.